saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali la musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione oltre alla composizione ho un bagaglio di 55 anni di esperienza live con band e piano bar ho 70 anni, vivo in Italia, sulle buoni liti di menosi e precisamente il calore saluto a tutti e un buon ascolto di questa mia canzone sono Cosimo Mascolo, sono un compositore e arrangiatore di brani musicali la musica è una mia passione, un hobby non è la mia professione